Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con Galaxy S3 e Nokia Lumia 820, abbiamo impostato il 720p come risoluzione su entrambi i telefoni, uno monta Android, l'altro monta Windows Phone, abbiamo appena finito la comparativa 1080p, sempre nottetempo, andiamo a realizzare quella 720p per farvi un attimo capire quale spazio di manovra avete. L'immagine non sarà esattamente la stessa, tuttavia sarà decisamente simile proprio perché abbiamo i telefoni uno in una mano e l'altro più vicino possibile. Con l'820 abbiamo realizzato anche una comparativa con iPhone 5 e con Nokia 808 così da capire un attimino questo 820 come riesce a competere con un esemplare per ciascun sistema operativo, ne ho preso appunto Android, Windows Phone, Symbian e iOS. Come fascia di prezzo 808, 820 e S3 tutto sommato sono lì, l'iPhone costa doppio, c'è la mela sopra quindi bisogna ovviamente enfatizzare questo aspetto. S3 in questo caso ecco, ha ripreso il fuoco. S3 fa un attimo di fatica quando si è appunto al buio, al buio comunque in contesti non particolarmente illuminanti come in questo caso. abbiamo superato i due minuti quindi direi che possiamo anche iniziare a considerare il fatto di salutarvi. bene a questo punto non credo francamente ci sia altro da aggiungere, 3 minuti come al solito li abbiamo raggiunti, pertanto io vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, Youtube e Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, un saluto, ci si vede online a presto da Giuseppe Ragazzino. Grazie. Grazie.